classon nasce dall'esperienza fatta con i costruttori sul campo per assistere i clienti che vogliono acquistare una nuova realizzazione immobiliare dall'unione di più figure professionali non tradizionali per un'agenzia nasce la nostra company immobiliare moderna e specializzata classon e la società che assiste le famiglie che cercano una nuova casa o un usato certificato oppure vogliono valorizzare al meglio un loro immobile per fare questo offriamo sempre un supporto continuo fino a rogito l'obiettivo unico di classon è quello di permettere a chi cerca o vuole vendere una casa un'esperienza serena senza intoppi e sempre assistita scopri di più su classon.it grazie a tutti